Ciao a tutte, ben ritrovati, questo video è un giveaway tutto per voi per celebrare l'arrivo di settembre, un mese un po' particolare perché abbiamo tanti propositi, tante aspirazioni, abbiamo grandi progetti perché è come se si aprisse un nuovo anno, per la verità per me è così, diciamo sono due i momenti in cui mi sento che inizia un nuovo anno, gennaio quando parte proprio l'anno solare e settembre quando si rientra dalle vacanze, si fa un po' un bilancio della prima metà dell'anno che è passata, le vacanze ci aiutano un pochettino a spezzare la nostra routine quotidiana, ci fanno assaporare dei momenti bellissimi che viviamo per poi ripartire con slancio alla grande nel mese di settembre, diciamo che io così mi sento quando inizia il mese di settembre e devo dire la verità è quello che mi propongo sempre di fare, di pensare, di avere dei buoni propositi per l'anno che inizia, quindi questo giveaway sarà per celebrare l'arrivo di settembre, i nostri nuovi propositi, anzi fatemi sapere nei vostri commenti quali saranno i vostri propositi e passo a mostrarvi i prodotti che ho riuscito di regalarvi, questa volta sarà tutto make up, ci saranno tre vincitrici e sarà, verterà su Dior, quindi questa Maison che secondo me fa dei prodotti veramente molto molto belli. Allora i premi sono stati presi così come mi sono arrivati, non c'è un motivo del perché il primo piuttosto che il secondo o il terzo e viceversa, quindi come mi sono arrivati così ho deciso di metterli in palio per voi. Ve li mostro, è facilissimo partecipare, vi chiedo di essere per favore iscritti al mio canale, iscrivetevi in tante, di lasciare i commenti che desiderate facendomi sapere i vostri propositi per il mese di settembre e soprattutto se vi piace di condividere il video e di mettere il mi piace. Quindi allora prima di tutto la prima vincitrice o il primo vincitore avrà in regalo la linea di gloss e di smalti. Allora ve li mostro ad uno ad uno, questa è la linea lip maximizer, non lo apro per non sciuparlo, eccolo qua integro. Questa linea va a dare turgore e collagene alle labbra, a dare un effetto di riempimento e pizzica un pochettino quando voi lo andate ad applicare. Generalmente si può utilizzare sia da solo sia invece su di un rossetto e non solo distende le rughette di espressione ma dona proprio un volume alle labbra. Lo smalto invece è uno smalto rosalatte, è quello della collezione precedente e si chiama tutù, quindi è molto molto carino. Poi copre perfettamente l'unghia, il pennello della linea di Dior sono cambiati con la nuova collezione di smalti, io mi trovo benissimo e sono una delle aziende mie preferite per gli smalti. La seconda o il secondo vincitore avrà in regalo qualcosa riguardo gli occhi. Eccolo qui, la mascara Dior Show Blackout e il twinset nella versione, nella colorazione 090. Allora, questo è il mascara, eccolo qui, lo apro giusto una volta perché è proprio nuovissimo. Questo è lo scovolino, ultra nero, ultra volumizzante e le separe, le allunga ma allo stesso tempo infoltisce anche le ciglia. Il twinset è della collezione precedente sempre e mi piace perché questa linea sono dei one shot, vale a dire delle edizioni limitate, quindi mi piace regalare delle edizioni effimile che poi non si trovano più e quindi avere il prodotto particolare. Questo è nella colorazione 090, da un lato porta la matita ombretto che si può usare e come matita ma volendo anche come ombretto che si può applicare su tutta la palpebra mobile e su si può passare il matitone che è già pieno di colore dove all'interno si trova ovviamente l'ombretto, quindi ha una duplice performance e una doppia applicazione sia come matita sia volendo come ombretto. E il terzo o la terza lucitrice o lucitore avrà il regalo sempre gloss e smalto della linea glue. Questa linea è una linea che è nata per dare quell'effetto bonmin sia alle labbra che sull'inghia. Bonmin è un effetto di luminosità, un effetto come chiamano i francesi di buona salute, schiocchette, guance rosa, pomette rosa o comunque labbra, è un effetto molto naturale, effetto color ciliegia e questo gloss è un trasparente ma quando si va ad applicare sulle labbra dona un effetto di riempimento ma non come il lip collagenist ma semplicemente un effetto di labbra più rosate, quindi sviluppa il colore naturale della mucosa. Lo stesso vale per lo smalto, quindi la collezione uguale, rende l'unghia più rosata e si può utilizzare tranquillamente anche da solo. Anche questi sono dei one shot e quindi tutta la linea mi piaceva regalarvela per farvi sentire speciali. Il lip collagenist si fa sempre quindi lo troverete sempre, tutto il restante è un one shot, mi piaceva che voi l'aveste, anzi anche il mascara di Osho lo trovate sempre in gamma. Bene, io spero che i premi vi siano piaciuti, spero che veramente che partecipiate in tante e che il giveaway vi piaccia lasciandomi i vostri commenti con i buoni propositi. Io vi auguro una buonissima giornata e vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!